Presentiamo il nuovo servizio di Radio Barzaghi, esclusivo e solo per gli abbonati. Uno spazio tutto vostro, dove presentare le vostre idee, biografie e i vostri lavori vecchi e nuovi. Per gli artisti, le gallerie e soprattutto i collezionisti. Un'ottima opportunità per entrare in contatto con gli artisti che saranno i vostri futuri investimenti in finanza o in cultura. Gli artisti in radio potranno presentarsi anche ogni giorno e i loro lavori saranno visibili anche sul sito del Museo Barzaghi in allestimina.